Con questa donazione per ringraziare insomma tutto il personale sanitario? Sì, Col Diretti oggi ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario per il lavoro che in questi mesi hanno dovuto fare con estremi sacrifici. E in questo momento in tutta la Toscana, Col Diretti è presente nei principali ospedali con lo stesso gesto. Stiamo donando quello che è il simbolo del Natale, quindi la stella di Natale, che però ci porta anche a riflettere su quello che è una problematica del settore floricolo. Infatti le nostre aziende floricole stanno subendo ormai da tanti mesi gravi danni e perdite. Pensiamo già alla primavera scorsa, sono state bloccate le vendite e la produzione di queste piante proprio nel momento in cui c'erano maggiori vendite richieste. E a primavera già hanno buttato al macero interesserre di fiori e piante primaverili, oggi rischiamo che anche la stella di Natale e l'albero facciano la stessa fine. Quindi chiediamo comunque un'attenzione della politica, un'attenzione vera a tutti quei settori dell'agricoltura che causa Covid hanno subito dei blocchi e delle gravi perdite.